La storia del castagno sulle prealpi è ancora piuttosto controversa, su tutte le Alpi oserei dire, tanto è che da alcuni record palinologici, cioè da studi paleobotanici impostati sulla presenza di pollini fossili, alcuni studiosi dicono che durante l'ultimo periodo molto freddo, avvenuto alcune decine di migliaia di anni fa, esistevano delle stazioni di castagno autoctono nella zona dell'Appennino meridionale, addirittura alcuni sostengono al margine meridionale delle prealpi e con il miglioramento climatico questa pianta può aver poi preso piede e può essersi diffusa lungo tutte le prealpi. Un dato di fatto molto importante è che se noi andiamo a valutare sempre questi record palinologici, cioè sulla base della frequenza del polline conservati in ambienti molto particolari, vediamo che c'è questa esposione di polline, di castagno ma anche di noce che corrisponde al periodo dell'epoca romana. Quindi di fatto, essendo una risorsa molto importante, è chiaro che questa sostituzione di latifoglie autoctone che fornivano sono legno con il castagno è avvenuta gradualmente per facilitare gli insediamenti proprio al margine delle prealpi. Naturalmente questa pianta, questa specie, ha bisogno di condizioni particolari, di suoli piuttosto profondi e di una umidità dei suoli ma anche di un'umidità atmosferica piuttosto accentuata. Non a caso questa pianta ha avuto una diffusione molto importante sulla base di quello che vediamo sui catasti storici nell'ottocento o nell'ottocento 50 perché eravamo proprio alla fine dell'ultimo periodo di abbassamento della temperatura, quello che è noto come piccola età glaciale che è culminata, se non erro, intorno al 1750. È chiaro che con queste trasformazioni del Chilima che stanno avvenendo di recente, un po' con l'abbandono dei boschi perché in questo momento il castagno e i frutti del castagno stesso non hanno più quale importanza economica che avevano nel secolo scorso, si è pianta soprattutto in relazione a questo cambiamento climatico che sta diventando sempre più incessante e che va a colpire queste specie che risentono molto del deficit idrico soprattutto estivo. È emblematico per esempio la morte di numerosi esemplari di castagno che si possono vedere ancora sul lungo il margine delle prealpi, in Maddalena ma anche sul versante nord del montorfano che corrisponde proprio a quell'estate particolarmente calda e particolarmente arida del 2003. Quindi nell'ottica di questi cambiamenti climatici il castagno andrà sempre più incontro a periodi critici e quindi bisognerà stare molto attenti nel gestire le foreste che ricoprono i versanti meridionali delle prealpi per trovare una sorta di equilibrio tra quelle specie più adattate e trovare eventualmente delle nicchie o degli habitat confacenti al castagno senza pretendere di ritornare alla diffusione che c'era solo poche centinaia di anni fa dove il momento climatico era del tutto differente rispetto a quello odierno.